Ciao a tutti, oggi da CarKit abbiamo fatto un'installazione un po' complicata su questa Audi A1 che di serie montava questa radio Chorus che non supportava neanche l'AUX dopo varie prove codificarlo eccetera non si può fare nulla con questa radio la macchina origine cui montava questo cassettino noi abbiamo installato il nostro tablet CarKit abbiamo montato una radio decente della Sony e così abbiamo fatto un bel impianto quindi la macchina all'origine esce senza lo schermo noi abbiamo aggiunto lo schermo che si richiude anche come l'originale qui abbiamo tutte le funzioni di un tablet android praticamente possiamo navigare con google maps possiamo scaricare applicazioni dal pre store e tutte le funzioni di un tablet android come si può vedere lo schermo touch da 7 pollici abbiamo google carplay android auto l'abbiamo fatto comunicare anche con la vettura anche se è stato un po' difficile quindi fa vedere vanno portare il portalo gaglia aperto lo sportello aperto questa grafica che funziona correttamente quindi è collegato proprio con la vettura la macchina è un modello base non c'è neanche i comandi al volante però abbiamo aggiunto quello che ci serve di più per poter sfruttarla meglio montaggio pulito bello il suono è ottimo perché è comunque una radio sony qui sotto abbiamo sfida completata lavoro perfetto grazie a tutti